ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale youtube oggi vediamo di seguire un esercizio sul prodotto di solubilità nel precedente esercizio abbiamo visto come determinare il kps partendo dalla solubilità di un sale poco solubile oggi invece vogliamo determinare invece la solubilità espressa in grammi litro di un sale poco solubile prima di iniziare l'esercizio cerchiamo di sfruttare questo diagramma che ci è estremamente utile quindi se noi conosciamo il prodotto di solubilità che in questo caso è 2,2 per 10 alla meno 20 per arrivare a determinare quanti grammi di idrossido rameico sono sciolti in un litro dobbiamo quindi eseguire i seguenti step quindi andare a determinare le concentrazioni molari dello ione rameico e dello ione in questo caso idrossido determinare la solubilità molare e quindi conoscendo il peso molecolare della sostanza andremo a definire quanti grammi di idrossido rameico sono sciolti in una soluzione quindi la prima cosa che andiamo a fare è quella di scrivere l'equilibrio chimico quindi è un sale poco solubile è un elettrolita forte comunque quindi scriviamo che CuOH preso due volte si dissocia in ione rameico Cu++ più attenzione due moli dobbiamo inserire di OH meno è importante per il calcolo finale quindi impostiamo la nostra tabella quindi all'inizio non abbiamo alcune sale disciolto la variazione che noi avremo sarà quindi che si andrà a solubilizzare una quota X di idrossido rameico quindi avremo più S più in questo caso 2S cioè dobbiamo considerare le due moli quindi all'equilibrio chimico avremo quindi delta E avremo quindi S più S e più 2S ora sappiamo che il prodotto di solubilità in questo caso dell'idrossido rameico Kps è uguale alla concentrazione molare di Cu++ per la concentrazione molare di Cu++ per la concentrazione molare di che cosa degli ioni idrossido quindi dovremo scrivere OH meno al quadrato mi raccomando andiamo adesso a sostituire i valori che abbiamo definito quindi avremo che Kps è uguale a S che moltiplica 2S al quadrato mi raccomando quindi il Kps lo conosciamo che 2,2 per 10 alla meno 20 quindi 2,2 per 10 alla meno 20 sarà uguale in questo caso a 4S al cubo andando risolvere ora facendo la radice cubica di S è uguale alla radice cubica di questo valore otterremo che la solubilità molare quindi il numero di moli sciolto in un litro di soluzione sarà pari a 1,8 per 10 alla meno 7 questa è la solubilità molare ora poiché abbiamo detto che la soluzione è pari a 1 litro la solubilità molare corrisponderà al numero di moli ora per calcolarci la quantità di idrossido disciolto in un litro di soluzione non dovremo altro fare che moltiplicare quindi la massa di Cu o H preso 2 volte sarà pari al numero di moli per il peso molecolare quindi la massa di Cu o H preso 2 volte sarà pari al numero di moli che abbiamo detto essere 1,8 per 10 alla meno 7 che moltiplica 97,57 quindi che è 97,57 grammi mole quindi che è il peso dell'idrossido rameico quindi la massa andando quindi a fare la moltiplicazione otterremo 1,8 per 10 alla meno 5 grammi litro ok quindi un esercizio estremamente semplice vi suggerisco sempre di utilizzare questo diagramma bene la lezione è finita se vi è piaciuta schiacciate un like e seguitemi arrivederci ragazzi alla prossima